Lo schiavo mentale non possiede alcun discernimento. Non è in grado di rendersi conto che è ingannato e che è sottomesso. È la programmazione del sistema, un sistema copia e incolla che si replica. Viene iniettato ai nuovi nati e tramandato direttamente dai genitori. L'inganno viene innestato fin da piccini, poi nutrito dalle persone che amiamo e che stimiamo. Lo schiavo mentale crede solo nella narrativa martellante diffusa dal sistema attraverso i mass media. Nel cuore dell'essere umano degli adolescenti, attraverso quella che impongono come istruzione obbligatoria, in realtà è la distruzione obbligatoria, viene sradicato il vero discernimento naturale per temprare un falso credo che rimane inciso per tutta la vita dell'essere umano adulto. Ma è un credo, non la verità. Questo timelapse, dove si vede Chicago da Warren Dunes State Park, ad oltre 84 chilometri, non è un miraggio come racconta la narrativa, nemmeno una rifrazione. La rifrazione capovolge ciò che viene osservato. L'effetto accade a causa dell'umidità e del cambio di temperatura dell'aria sopra la superficie dell'acqua. E si vede anche qui, le molecole d'aria modificandosi col cambio della temperatura e muovendosi si spostano insieme alle molecole di vapore creando un fattore che impedisce all'occhio umano di vedere esattamente la realtà degli oggetti che si trovano fra la pupilla e gli oggetti stessi, se non addirittura nasconderli. Come? Con la nebbia, ad esempio. Osservate cosa succede a livello microscopico con lo spostamento dell'aria aprendo o chiudendo la serranda di un garage. Durante l'eclisse di sole, sulla Terra viene proiettata l'ombra della Luna. La Luna ha un diametro di 3475 chilometri, ma la sua ombra solo di un centinaio di chilometri. Raccontano che succede questo perché entrano in gioco ombra e penombra. Ma è un inganno. Le immagini non sono assolutamente in scala. Qui vediamo le distanze in scala fra Terra e Luna. E qui, fra sole e Terra. Durante l'eclisse di Luna, con le stesse proporzioni e la spiegazione ombra e penombra, sulla Luna si dovrebbe formare un'ombra di queste proporzioni. Ma lo schiavo mentale non possiede alcun discernimento perché credere è nemico di conoscere. Prima di postare qualsiasi commento invito a visitare la pagina indice alfabetico di cui trovate il link nella descrizione del video, con a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni. Qualsiasi domanda, come ad esempio stagioni, sole che rimpicciolisce, luna capovolta, stelle al sud, perché non vedo fino all'America, effetto Corioli, pendolo, perché mentono, eccetera, dove esiste già la risposta, viene cancellata.